Da 0-0 la sfida in Svezia tra il Trelleborg e la Lazio, una gara vivace che i direttanti del Trelleborg hanno saputo controllare con bravura, mettendo anche in difficoltà i biancoceleschi. Zeman, senza gli infortunati Rambaudi e Di Matteo, ha schierato Venturin e in attacco il tridente, formato da Bokšić, un miglior in campo, Casiragli e Signini.